Devo mettere a posto una persona, però devo parlare con te. Se vogliamo bruciare una macchina, ti immaginiamo. Una bottiglia, mentre sei in moto, vuol che se arriva la bottiglia, fa una macchina, gli altri più vicino, la domanda avanti. Se non ti parto in casa, faccio le conseguizioni di... Hai capito? Ora ci devi cacciare la tua! E' un'asta di morte! E' un'asta di morte! E' un'asta di morte! Forse non mi conosci bene! Non giocare! Non me ne fotti un c***o che mi stanno ascoltando! Non voglio neanche più i soldi! Però a casa mia ti ricordi che mi porto con un pezzo di te! Ciao! Mi ha detto, ma tu fai il mafioso con me? Con noi? Se non, passo tutti i mesi! Puoi vedere che vengo ogni mese! Non c'è i soldi! Mi dobbiamo fare il cuore con cosi dentro la porta! Non ce non c'è il mio senatore! E non voglio gli altri. Che mi vede pure! Ma le metto lì! E vado a machiare il c***o! E ma testa e no... E ma nera, le fai il葉! Io... 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 Mo... Io... come si non si stai a dirlo, posso scrivere il mio perche? io ho fatto il tuo nome io ho chiuso, c'è un nome di lui lui è un nome di lui io ho chiuso io ho chiuso io ho chiuso io ho chiuso un nome di lui si è il nome di lui io ho chiuso io ho chiuso io ho chiuso